bello a tutti forniters benvenuti sul nottube eccoci questo video per andare a fare l'incarico esamina forzieri alle fortezze di torna in una sola partita dobbiamo trovare 4 forzieri in uno di questi tre posti io mi dirigo qui a opulenza oscurata e i posti video che sono indicati ampiamente sulla mappa ok dobbiamo andare qui ed esaminare quattro forzieri andiamo a vedere se riusciamo a trovarli in breve tempo allora lì già ce n'è uno due tre quattro li abbiamo visti tutti speriamo che anche se questo non è ecco un altro la comunque abbiamo visto perfetto però che ora bisogna tornare su ok e questa era sempre una valigia quindi ce ne manca ancora uno ma possiamo andare tranquillamente in giro vediamo se riusciamo a vederlo dall'alto andiamo qua ok andiamo a cercarlo in giro per la casa qua e no eccolo qua comunque questi avete visto sono un po tutti i posti dove può spawnare ok e detto questo serviva stato un po di aiuto mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto sempre vi invitiamo a cliccare la campanella per mettere i nostri giorni ciao a tutti ciao a tutti